Seduta sulla sua sedia, Agnes Nichols, non si sa la data di nascita, 1917, strumento inglese a fenomeni fisici, forse il più potente medium femminile del suo tempo. Produceva movimenti di oggetti senza contatto e levitazioni. In seguito si specializzò nella produzione di apporti. Durante molte sedute fu trasportata, seduta sulla sua sedia, sul tavolo. Di un fenomeno analogo è stato testimone chi parla, in casa dello strumento romano Demofilo Fidani. Attraverso la Nichols furono apportati una grande massa di neve, fiori di serra, animali vivi come anguille, gamberi, farfalle, anche a richiesta dei presenti. Si sarebbero prodotti anche apporti umani, come nel caso di una donna grassa che comparve in stato di trance e con una matita in mano. In seguito si appurò che la donna stava controllando i conti della spesa in casa con la sua domestica, quando sparì improvvisamente dalla stanza. Nel 1872 la Nichols fece ottenere a Frederick Hudson la sua prima fotografia spiritica. Come si spiega? Commento Non si può spiegare con la mente. Quando la mente, anche molto acuta, cerca di spiegarlo, prima arranca e poi giace sconfitta.